Dunque, abbiamo finito di lavorare con Camera Raw, adesso possiamo trasferirci su Photoshop e chiaramente spostare anche tutte le nostre foto su quest'altro programma. Quindi che facciamo? Per selezionarle andiamo a tenere premuto Shift oppure Control, andiamo a selezionare le foto e clicchiamo su Aprire oggetto. Perché viene scritto oggetto e non aprire foto o immagini come al solito? Perché prima abbiamo scelto di cliccare sulla casella Aprire come Smart Object, poi andremo a parlare di cosa sono questi Smart Object. Mentre le nostre foto vengono aperte in Photoshop, dobbiamo parlare di una cosa importante, ovvero è fondamentale che voi adesso vi teniate una sorta di scaletta di tutte le operazioni che andremo a svolgere. Quello che vi racconterò adesso è il mio modo di procedere, la mia scaletta. Se voi avete una vostra tecnica, un vostro procedimento, potete ovviamente utilizzare il vostro oppure andare ad implementare il vostro metodo andando ad aggiungere dei passaggi che prendete da me. A prescindere da ciò, è importante che voi abbiate questa scaletta chiara, soprattutto in una fase iniziale. E' importante che voi sappiate cosa fare per primo, per secondo, per terzo e così via. Quindi, in questo modo, quando poi andrete a vedere queste registrazioni, sarà tutto molto più chiaro quali sono i passaggi che stiamo svolgendo. All'inizio del mio percorso io pensavo già di avere tantissima conoscenza, ma mi sembrava solamente perché poi quando mi sedevo e cominciavo a lavorare, stavo ferma veramente per tantissimo tempo pensando a cosa fare. Quindi, sapevo cosa fare, ma non mi ricordavo come, perché una volta che si impara un passaggio è molto facile scordarsi quello precedente. Quando poi invece ho cominciato a scrivermi tutto, finalmente ho cominciato ad avere una visione chiara di tutte le operazioni. In questo modo non andremo a perdere tempo, perché è veramente inutile cercare di ricordarci. E' bene avere questa idea chiara, così possiamo poi cominciare a lavorare immediatamente, anche se abbiamo bisogno di un supporto cartaceo o di una lista. Quindi, se voi decidete di andare a cambiare un colore, riuscirete finalmente a cambiare questo colore immediatamente, anziché pensare tre ore a come si fa. Per questo, se avete un problema con la vostra sistematicità, non riuscite a trovare un metodo, questo è qualcosa che andremo a risolvere adesso. Quindi, prendete bene nota di tutte le operazioni e poi possiamo finalmente cominciare. Il primo passaggio che andremo ad effettuare è quello del ritaglio della foto e del riquadro. E' un passaggio molto importante, perché, come abbiamo visto prima, aprendo la foto in modalità Smart Object, avremo la possibilità di ritagliare la foto senza perdere la qualità, che è ovviamente un passaggio importantissimo. Questo l'abbiamo fatto cliccando su quella piccola casella, andandola a spuntare, in cui c'era scritto, appunto, apri il file come Smart Object. Che cos'è questo oggetto? Come dice la parola stessa, è un oggetto intelligente, quindi è un formato che ci dà delle possibilità in più rispetto a un formato tradizionale. In parole povere, possiamo, ad esempio, andare a ritagliare la foto, a cambiare alcuni parametri, senza andare a perdere la qualità, che è chiaramente un passaggio importantissimo. Oltre a questo, lo Smart Object ci dà veramente milioni di possibilità diverse. Io ne uso solamente un paio, perché non me ne servono di più, quindi vi andrò a mostrare quelle più salienti. Un'altra funzione importantissima che ci dà è la possibilità di tornare a lavorare su Camera Raw anche dopo che abbiamo cominciato a lavorare su Photoshop. E la cosa ancora più bella è che, riaprendo Camera Raw, ritroveremo le stesse impostazioni che avevamo impostato in precedenza. Quindi, se vogliamo andare a cambiare qualcosa, dopo aver apportato già ulteriori modifiche su Photoshop, lo possiamo fare tranquillamente. Possiamo registrare un preset, ad esempio, oppure cambiare qualche parametro. È molto, molto utile. Poi, dopo aver apportato queste modifiche, andiamo a cliccare su OK e la foto si riaprirà nuovamente su Photoshop. E quindi, questa è la prima funzione che vi ho mostrato. La seconda, come vi ho detto, è quella del ritaglio. Quindi adesso vi faccio vedere come andare a ritagliare senza perdere qualità.